Ciao a tutti webazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Webbo e oggi siamo su Resident Evil 7 Chi ci segue su Telegram lo sapeva che prima o poi l'avrei portato questo video Forse siamo un po' in ritardo rispetto agli altri, ma chi se ne frega, come al solito Niente, che volevo dirvi, sembra, io non gioco a Resident Evil dal 3 Sembra che con questo siamo insomma tornati alle origini, anche se ci sono delle differenze Il gioco è in prima persona, la gente si è lamentata appena l'ha visto Però non lo so, io ho letto alcune recensioni e sembra che sia un bel gioco Non portavo una serie horror dai tempi di Until Dawn, non so se qualcuno di voi ha visto quei video Vabbè, quindi sono contentissimo perché poi a me questo tipo di gioco, questi tipi di giochi mi piacciono un sacco Non so se diventerà una serie vera e propria, spero di sì Vediamo se reagite bene, se arriviamo che ne so a 10 mi piace porterò un secondo episodio Altrimenti io me lo giocherei anche per conto mio e non mi dispiacerebbe affatto Partiamo insieme però Allora, casa dolce casa, facile, casa degli orrori, normale, ovviamente noi sceglieremo Casa degli orrori Ehi amore Beh ecco, volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto Oh, indovina un po', sarò di ritorno a casa molto presto, evviva Non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter E di tornare dal mio amato marito Mi manchi tanto Ora devo tornare al lavoro Sappi che ti amo, Ethan, mi manchi molto Ti mando un mare di baci, ti amo tanto Ciao amore Ethan Sì, è vero Ti ho mentito Non avrei dovuto, ma Quello che posso dirti è che Se troverai questo Stanne Lontano Pronto? Ehi, sono Ethan Ehi, Ethan Tutto bene? Sei sparito l'altra sera? Sì, va tutto bene Però Mia Non è morta, lei è viva È tornata L'hanno trovata? Ma come? Sul serio? Io non lo so, ma È tornata Non so come ha fatto, ma è tornata Forse è uno scherzo Vuole che la raggiunga Ma lei dov'è? Dalvey Dalvey, Louisiana Merda Ma sono passati tre anni Lo so, ma se invece fosse davvero lei Voglio scoprire qualcosa in più Guardati intorno Allora Mamma mia Siamo partiti subito bene Quindi lui sta partendo Per andare a cercare la moglie Sì Stiamo scendendo? Di già? Non c'era un altro po' di viaggio da fare? No Va bene Scendiamo allora Ok Questo è il posto Trofeo guadagnato È ancora viva Speriamo Speriamo che lo sia Anche se ho i miei dubbi Sinceramente Questo è il posto Procediamo Come vedete È in prima persona Le va Oddio Ecco la casa Io ovviamente Ho le cuffie a palla Come giusto che sia Ok È chiusa Meno male Dai andiamocene È chiusa Secondo me non si passa Vediamo qui Ah dobbiamo suonare? Non sembra che risponda nessuno Ok Passiamo di qua Ma si può correre? Sì Così si abbassa Ok Così si corre Vediamo qui dentro Ruota C'è scritto La proposta di progetto Introdursi in una casa Infestata in Louisiana Ok Unisciti a noi Join us Va bene Nient'altro? No Andiamo avanti Qui che c'è scritto Accetta il suo dono Sì ma è troppo scuro Facciamo prima no? Oddio Che cos'è? Che cos'era? Chi era? Ma Ma La cosa brutta Dello giocare in prima persona Rispetto magari ecco Ai vecchi residenti È che non vedi cosa ti accade alle spalle Ed è una cosa Terribile Perché Andiamo di qua Oh mio dio Oh mio dio Che cos'è? Covacciali Io sto andando proprio alla cieca Non ho la minima idea di cosa sto facendo Un fuoco Ok Questa è la casa Ecco Già se trovassi un'arma Questa per esempio è una borsa buonissima Patente di guida Ma lei Eurega Ok Ethan Winters Louisiana Fattoria dei Backer Vieni a prendermi Ok lei E questa La conosciamo Ok Mamma mia Che postaccio Troppo bu Troppo bui Questi posti Vabbè ma è tutto buio Un'arma No no Porca vacca Ma porca vacca No 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 ragazzi Cioè io Cioè immagino quelli che stanno giocando con il VR Cioè c'ho l'ansia così Ma siamo impazziti Si apre questo Si Che ci faccio con la patente Eh no Non posso tagliare No Ok poi ci mette un Un Oddio Non so se andare sotto o sopra Proviamo di qua Porca vacchetta ladra Ok ce ne andiamo Mamma Una foto Non so se è lei Ma non credo Un piano Forte Sai suonare? Cavolo Oddio Questo è un video Ah questa è la famiglia di psicopatici Perfetto Vediamoci la cassetta Ah no La dobbiamo trovare la cassetta Ok Oh i fusibili Manca un fusibile Forse dobbiamo andare su Non ce l'ha niente Non abbiamo messo prima Andiamo su a questo punto Ok Che cos'è Quell'interruttore lì Ah è un interruttore Che senza fusibile Non funzionerà Ovviamente Per le scale Infatti Non funziona Perché manca il fusibile Dobbiamo trovarlo La cassetta Bene Ok Possiamo salvare Perfetto Beh io direi di non fermarci qui Anche se abbiamo trovato il primo salvataggio E di provare a trovare il fusibile Per far scendere le scale Ok scendiamo giù Di qua Mamma mia Tutti questi rumori poi Vai Uh Boo Ma dove l'hai trovato? Facci un taglio Pete Ehi Lavoro coi professionisti A proposito Controlla che l'audio funzioni Non voglio un nuovo amarillo Ma è una storia di due anni fa E non mi doppio Quello nuovo? Non mi piace Ancora? Non ti stupire se dovremo rimpiazzarlo Posso camminare nella cassetta? Perfetto Piano B Apriamo Filmiamo l'interno E poi parte l'entro Come sempre insomma Però Di il nome del programma stavolta Tranquillo Stasera Su Ergheitos Un altro posto del cazzo inutile Felice? Andiamo va Feliziato Secondo me finisce male Vai vai Entra tu Io ti seguo Vai vai Siamo pronti? Si Cominciamo Fatti da parte Vai ci pensa lui che è fortuto È chiuso Bam Dopo di te Secondo me moriremo tutti Ho questa impressione Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? Uh è stregata? Che cazzo? Era un presentatore io Sostituto Pete Sostituto Cosa? Nulla Vi dicevo che ho visto La storia Andrea? Della demo ma non l'ho vista ad un tanto Perché non volevo rincare il gioco Il solito Da quanto hai detto che è abbandonato? Tre anni Clancy Filma questo Ottimo inserto C'è la stessa modella? Quindi Questi contadinotti scompaiono La stessa pentola Non dai contadinotti Jack e Margaret Baker Gente tranquilla non arretrata Girano brutte voci sul figlio Lucas La pecora nera Ah merda Sapevo di dovermi mettere le altre Sì Oh merda Sono vaccinato Comunque È un gran bello sfondo Andre Che dici? Andre? Andre? Ecco il primo è morto Andre Ehi Clancy Hai visto Andre? Non ti vedo più No non l'ho visto Dov'è? Oh cazzo Non posso crederci Non lavorerò mai più con lui Io direi di non andarci lì Alla fine i produttori vanno e vengono Ma un buon cameraman come te Resta vicino Eh sì Ci sto ma Ho la vaga impressione che faremo una brutta fine Mannaggia Cos'è stato? Non lo so Sentito? Vai tu Vai tu Vai tu Andre? Andre? Dove cazzo è? Entra Entra Andre dove sei? Mamma mia ragazzi Che ansia Che diavolo È tutto buio Ah È un cazzo di scherzo Ok nel camino Facciamo così Troviamo Andre e poi ce ne andiamo Fa un culo lo show Sì Ricordiamocelo questo Per quando usciamo da questa cassetta del cavolo Vedete qui si passa Vai vai Oh mio dio Scendi Prima tu No Riprendimi tipo eroe Mentre scendo Ma sei un Allora Vai pure Maledetto sei Sei un maledetto Vado Quanto è lunga Che cosa vedi? Che cos'è? Oddio Oddio Porca vacchetta Porca vacchetta Bene Siamo morti Credo che dobbiamo rifare la stessa cosa adesso Così eh Ha intuito Cristo Esatto Esatto Abbiamo vista Eh niente dai Andiamo Tanto c'è poco da fare Ah no Ma stava qui Stava? Sì stava qui il camino Dove sto andando? Vai Respiro forte E via Facciamoci coraggio Che dopo frille viene maggio Andiamo giù Porca vacchetta No Eh no Non ti rompi No Vabbè Vabbè Non ti puoi rompere Cavolo Come risalgo Dammazione Vabbè Almeno non c'è il morto L'hanno tolto L'hanno pulito Bene Sì L'hanno tolto Vediamo se c'è qualcosa di qua Non è che sta qui dentro No Ah No Niente Ok Andiamo avanti Oh no Pure l'acqua Porca vacca No Vabbè Non si vede nulla No 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 Ho visto qualcosa Ma ero io forse Era la mia mano Mamma mia Sono pronto al jump Che cacchio era Lo so che esce qualcosa Mi sto preparando Ok c'è una porta Porca vacca Lo sapevo Lo sapevo Che era qui il morto Vabbè Ok pensavo peggio Pensavo peggio Ci siamo Non si vede Una ceppa Ma Che cosa troveremo Il fusibile Non ci credo Fino a qui giù Una tazza Bene Se te la fai sotto Vedi Che bra Oddio Ah Beh certo E qui che c'è Mamma mia Mamma mia Ok Che cos'è Mutato Mutato Deceduto Mutata 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 Deceduto Però mia È viva Tutti Deceduti E mutati Tranne mia Che è viva Di qua E questa Clancy L Che non ho idea Di che cosa Significhi Queste ci Possono Veramente Veramente Tornare utili Grazie mille C'è qualcos'altro Che possiamo Sfruttare Sai com'è Non mi sento sicuro A mani nude Mia Eh mia Ok Scegli un oggetto Da usare Mia Sei tu Sei viva Mia Per fortuna Sei viva Sono io Sono Ethan 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 Ehi stai bene Tu non dovresti Essere qui Ma che vuoi dire Mi hai contattato tu No Non sono stata io O forse Qualcuno ti ha visto entrare Lui ti ha visto Lui Ma c'è qualcun altro Che diavolo succede qui Sta arrivando papà Dobbiamo andarcene Papà Dobbiamo andarcene adesso Ok Mi hai convinto Era mia comunque Andiamocene Mia vai avanti tu però Dove mi porti In un posto sicuro Sì Vuoi dirmi cosa sta succedendo Ehi ti ho creduta morta Per tre anni Tre anni Sei sicuro di quello che dici Vai mia vai Non mi morire adesso Hai resistito tre anni Non morire adesso Ok Ma che posto è mai questo Che ti hanno fatto Non adesso Dobbiamo trovare una via d'uscita Sì Sono d'accordo con te Forse da questa parte Sono tre anni che ci abiti Non lo sai Oh porca vacca Guardate Un attrezzo Qualcosa Una pistola Mia Noi dobbiamo parlare Il messaggio che hai mandato Credimi Quella non ero io Ma l'hai fatto Non sono stata io Ok D'accordo Ma dimmi che sta succedendo Ti sto dicendo tutto quello che so Gioro Dobbiamo andare di qua Ti seguo? Attenzione Mia Sai dove stiamo andando Qui la famiglia Mi passava da mangiare Sì me lo ricordo Ti seguo eh Ok Lì È proprio lì Andiamo Andiamo È questa Ricordo la stanza C'è un'altra porta Ne sono sicura Va bene Non c'è più È sparita È sparita Saremo una famiglia Ora che tu sei qui Che sta dicendo Sono sicura che ci sia un'altra porta Sì Adesso la troviamo ma Ma fammi vedere se c'è qualcosa qua La bambola Oh merda Che è successo? Mia Di qua? Eccola la porta Mamma mia Mamma mia raga Immaginiamo Grazie Grazie Questo che cos'è? Mappa casa ospiti Ok va bene Guarda la mappa Come? Così Oh mappa vecchio stile Ragazzi Soggiorno Cucina Entrata sul retro Ok passaggio segreto Ok quindi siamo di nuovo dove stavamo prima C'è il bagno che è chiuso No è aperto Però è inesplorato Buono Non so che cosa sia ma buono Soluzione mentica Ok ok Sento dei rumori che non mi piacciono E qui Che palli vai No chiuso Meno male Sento questo rumore ma non so da dove viene Oh porca vacca Lo sentite? No vabbè No 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 Porca pupazza Sotta Lascia Che cattie Oh porca Io non sto premendo Mamma mia Aspetta Aspetta Aia 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 Senta Ok Riesco a sentirla Riesco Io riesco a sentirla lottare dentro il mio corpo Mattere via Lasciami stare E' giusto Sono stata cattiva Che ti hanno fatto mia? Non lo so ma Meglio usiamo la soluzione medica Ok perfetto Il coltello dove la metto Oh no Che Ma che cavolo Va via Ci sta provando Bravo R2 attacca Muori Muori Maledetta Maledetta Ti ho amata Una volta Ma adesso Forse è meglio Se muori Ok Molto bene Forse l'accetta E' meglio riprenderla Però eh Che ne pensi? Certo Oh no Non saresti dovuto venire qui Chi sei? E che cazzo succede? Mi chiamo Zoe Forse puoi uscire dall'attico Attico Adesso vai Subito Eh sì Sarebbe bello Riuscirci Oddio Si è chiusa Brava Lascia ma Lei non c'è più? Lei non c'è più Quindi non l'ho uccisa Sempre è meglio esplorare Perché Quegli oggetti Ragazzi sono molto utili Ok Si è trascinata Ed è andata oltre Quindi è ancora viva Bene Adesso che abbiamo l'accetta Possiamo Abbiamo accesso A diverse cose Qui però Vediamo se c'è qualcuno qua Che rompe No Apri Oh Fusibile Fusibile Ok Andiamo Oh Oh L'ho vista L'ho vista L'ho vista È andata su? Ok Il fusibile si metteva di qua Ok Ok vai Vai Dov'è? Fusibile Ottimo Adesso abbiamo la corrente Oh Tranquillo Cavacca Quanta vacca So che non volevi farmi alcun male Oddio Questa volta Hai esagerato Dovresti essere morta In teoria Ha un cazzo di male Aio Aio No 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 E ora Voglio proprio vedere come soffri Levalo Levalo Oh Capitana La mano Devo farla Devo Fermarla E Mettere a fine A sotto La torre Io Brucerò Ogni casa Io adesso dove vado con questa mano così Accoglila Ok Grazie Ma non si riattacca Morirò distanguato Ok Ok Molto bene Ok Ok Cosa c'è qui Niente Stanza vuota Buono Buonissimo Finalmente Finalmente Ok Perfetto No Così ti voglio Perfetto L2R2 Ok Bene Adesso Venite adesso Se avete coraggio Venite Mamma mia Che cos'è Dalla parte c'è una scala Dalla lato c'è una porta Vediamo la porta Buonissime Munizioni ancora Ma il fatto che stiamo trovando tutte queste munizioni Però non è che mi faccia impazzire Perché Significa che presto dovremmo utilizzarle Tipo qui No No Merda Ok Ok No No Oddio 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 Mori Quanti se ne voglio Tutti su di me Tutti con Vaya Vaya Tutti con No 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 Vaya Sono la responsabile E muori Dai che sei morta Non so che sei morta Non so Ti amo Sì anch'io amore ma Devi essere meno aggressiva Meno aggressiva eh Ok Porca vacca Non recupero l'energia? No Non ho più Non ho più per curarmi Benvenuto in famiglia No 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 Forza Non morire proprio ora Hai del lavoro da fare Dove... dove mi trovo? Che diamo... Basta sonnechiare, dormiglione È l'ora della pappa E voi, chi siete? Dov'è mia? Mangia È buono Non distinguerebbe il cioccolato dalla merda Ehi, Luca! Cristo! Dannazione, voglio non di nuovo! Spostati, Margherita Il ragazzo ha fame Deve mangiare la sua cena Su, giovanotto Apri la bocca Non mangia, Jack, non mangia Chiudi la cazzo di bocca, Margherita! Ma non ci sia tu per lui! E battevi via di qui! Sei un figlio di puttana! È incredibile, tu figlio di puttana! Non mangia, non mangia! Questa deve essere una cena davvero speciale Avanti, mangia Cioè, andiamo? Maledizione! È ancora quel poliziotto! Schifosi Maiali! tornerò presto per te allora webbazzi direi che possiamo chiudere qui questo video insomma è stato un primo episodio abbastanza intenso serie vedata sicuramente ai minori di 18 anni non so se ci saranno altri episodi vediamo come reagirete a questo primo video siamo ormai diciamo prigionieri di questa famiglia di folli che sembra non sono zombie sono un misto tra umano e tra gli umani e gli zombie la nostra moglie mogliettina lì appena morta che poi non è morta sembra la protagonista di ai zombie infatti si trasforma perde la ragione vabbè comunque capiremo sicuramente meglio in futuro io come al solito vi invito a mettere un mi piace o un commento iscrivetevi se non siete iscritti e noi ci vediamo al prossimo video ciao e pazzi ciao 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 ciao